Siamo bravi a rovinarci l'esistenza come Partito Democratico e appena chiusa questa annosa vicenda delle candidature bisogna voltare la pagina e pedalare per arrivare al traguardo che questa volta è a portata di mano. Poco più di 30 giorni, questa uscita di scena di Alfieri rischia di modificare gli equilibri all'interno del partito, ci riferiamo naturalmente alla provincia. Io francamente penso che Alfieri sia una risorsa per questo partito e credo che continuerà a lavorare per il partito perché è un grande amministratore, un ottimo amministratore ed è un quadro politico e saprà gestirsi anche in questo momento difficile. Io ce la metterò tutta e so che vedo l'affetto degli amici, soprattutto la carica che hanno tutti quelli che mi vogliono sostenere, hanno la stessa carica che ho io. Credo che oggi sia un giorno che può far cogliere l'obiettivo, sia un tempo in cui io posso cogliere l'obiettivo, anche perché sono inorgoglito dal fatto di essere l'uomo dell'amministrazione scelto per questa campagna elettorale. Questa cosa sicuramente per me ha un grande significato e cercherò di non tradire le aspettative di chi mi ha scelto. Certamente sulla base di quello che è il risultato di cinque anni fa, che è una vittoria mancata di un soffio, ma in realtà un grande risultato politico, faremo tesoro di quell'esperienza per arrivare all'obiettivo.